e buonasera ho visto il vostro sito su internet c'è vincenzo volevo parlare con emanuele grazie è pronto ciao sono emanuele ho visto sul sito questo numero ascolta io qua sto leggendo climatizzatore daikin dual split giusto che mi servirebbe proprio quello 7 più 5 che cosa significa c'è scritto 7 più 5 nuova serie cioè significa ma scusa posso chiedere ma è la miglior marca questa qua i migliori sono si ma voi trattate solo questi e l'altra come si dice ok grazie buona serata ti è stato gentilissimo l'altra marca cos'era ma che cazzo marca giapponese che cazzo e com'era come si gana non lo so dai che te l'ha detto me l'ha detto solo che sono un marchio giapponese che cazzo ne so io e perché la daikin cos'è pure giapponese ah un nome strano quindi cosa vende daikin e e cos'è non lo so ma dai fu fujichin ah